Io posso essere anche d'accordo quando si dice che ci deve essere più un fisco a misura di cittadino, ma poi noi ci troviamo Equitalia che i cittadini li ammazza in tutti i sensi e di conseguenza nel momento in cui abbiamo un Presidente del Consiglio che ci viene a raccontare che il canone Rai verrà messo nella bolletta, nel momento in cui andiamo a vedere che ci sono tasse ancora per finanziare la guerra d'Abissinia e se non le paghi ti chiudono, quasi quasi ti arriva Equitalia e ti ammazza nel momento in cui sappiamo che l'Italia è uno degli Stati che ha una delle tassazioni più alte a livello europeo, venire a dire che ci deve essere un patto sociale tra lo Stato e i cittadini, io da cittadino mi metto a sorridere, inoltre quando Renzi ci continua a dire che sta diminuendo le tasse e poi le tasse sappiamo benissimo che comunque dai dati che ci sono in mano non sono diminuite, a questo punto io alla signora Orlandi e al signor Renzi una domanda la farei anche, ma di che cosa stiamo parlando?